Buongiorno, benvenuti a questo workshop, mi chiamo Zonta Diego e per la Beantec seguo tutti i progetti che riguardano il CPM che sono anche l'oggetto appunto di questo momento di approfondimento, quindi oggi parleremo chiaramente di un caso aziendale molto appunto concreto, riferimento proprio alla Business Analytics per il controllo di gestione e la pianificazione finanziaria. Il mio compito iniziale è di fare una breve introduzione a livello appunto di azienda, di Beantec, prima di passare proprio al caso concreto. Partiamo direttamente da quella che è la nostra vision che poi è quella che effettivamente ha guidato anche questo progetto nello specifico. Quindi la vision di Beantec è IT moves your business, quindi essenzialmente partire da un progetto come lo si faceva 20 anni fa, quindi essenzialmente riferito in particolare ad un progetto molto basato sulla tecnologia, quindi sul prodotto con una visione aziendale, operazionale, dipartimentale, a quello che vi presenteremo oggi e che è molto centrato sul business e che quindi ha una visione per quanto riguarda il cliente di soluzione gestionale ad alto livello, quindi decisionale e chiaramente dal punto di vista nostro che appunto abbiamo progettato, una soluzione completa e che quindi è molto pervasiva a livello di azienda. Per quanto riguarda chi è Beantec nello specifico, noi operiamo in tre aree, l'area infrastrutture, dove da un'esperienza pluriennale a livello chiaramente di infrastrutture sia on premise, sia in cloud, con un riferimento importante che è il partner, appunto Beantec e partner, premier partner Dell. La seconda area che appunto è quella della business analytics, di cui oggi vedremo l'esempio concreto, quindi analisi dei dati basata nel nostro caso sullo stack Microsoft, quindi essenzialmente tutto il percorso da SQL attraverso Excel fino a SharePoint e terza area è appunto quella delle software applications, quindi essenzialmente in questo caso degli sviluppi di software applicazioni ad hoc, verticali, a supporto dell'area chiaramente business analytics ma anche di vita propria con esempi, ad esempio nella verticalizzazione del campo agroalimentare piuttosto che nell'asset management e via discorrendo. Quindi queste sono essenzialmente le tre aree su cui opera Beantec. Brevemente i nostri numeri, quindi numeri, a parte i numeri statici, ma sono numeri in crescita chiaramente negli ultimi anni, quindi come potete vedere anche un investimento importante in persone, in persone formate, una formazione continua ed un'età media anche decisamente bassa ed adatta appunto a questi progetti. Ultimo dato importante, chiaramente siamo in 15 paesi del mondo, direttamente o attraverso dei nostri partner e quindi essenzialmente una visione internazionale che in prospettiva sarà sempre più internazionale visto appunto l'obiettivo di crescere a livello mondiale. Prima di passare al caso aziendale in concreto un attimo una foto di quello che è il focus sulla business analytics quindi sul nostro prodotto che appunto è ben analytics questa è la struttura come vi dicevo prima riferita appunto a tutto lo stack Microsoft dove chiaramente partiamo dall'analisi, dalla base dati le TL, quindi poi abbiamo le due soluzioni chiaramente cloud attraverso Azure piuttosto che on premise con SQL fino alla parte chiaramente poi di reporting di front-end reporting attraverso come vi dicevo prima Excel, Office 365, Power BI, SharePoint nel caso specifico che vedremo adesso la soluzione chiaramente ha riguardato l'area chiaramente dell'IRP della Goreziana e quindi essenzialmente la base dati del gestionale dei file di supporto Excel per tutta la parte non strutturata chiaramente gli estrattori quindi la parte TL ha riguardato la parte appunto SQL Server fino ad arrivare chiaramente alla parte di front-end l'azienda opera attraverso Excel quindi essenzialmente dashboard in Excel e attraverso dei report statici diciamo così on demand che vengono richiesti a livello direzionale detto questo questa breve presentazione lascerei proprio la parola al dottor Carlo Bavosi CFO di Goriziane Group che proprio il cuore del workshop è proprio la presentazione del caso aziendale Buongiorno sono qui appunto per presentare la soluzione che assieme a Beante che abbiamo sviluppato a supporto del processo decisionale aziendale due parole su chi è Goriziane se va altrimenti Goriziane Group è una società che ha sede a Villesse in provincia di Gorizia impiega circa 130 dipendenti ed ha un fatturato di 35 milioni di euro abbiamo una società in Singapore ed una branch in Azerbaijan abbiamo una società a Singapore ed una branch in Azerbaijan oltre ad una partecipazione su una società italiana GSE siamo operativi su tre mercati oil and gas difesa e ferroviario nel mondo oil and gas nel mondo oil and gas in particolare facciamo ingegneria produzione installazione manutenzione di impianti nel mondo del pipe handling quindi lo spostamento posizionamento dei tubi nel mondo oil and gas appunto produciamo macchine che asservano alla linea di produzione nel mondo oil and gas e facciamo attività di service quindi con personale presente in nave in piattaforma in deserto ovunque sono installati i nostri impianti i nostri prodotti o prodotti di terzi nell'ambito della difesa siamo leader italiani per quanto riguarda la manutenzione completa di tutti i veicoli in dotazione alla marina e all'esercito per quanto riguarda railways quindi sul ferroviario ci occupiamo di due sistemi importanti all'interno della carrozza che è la riparazione e la manutenzione degli impianti frenanti e dei sistemi di apertura e chiusura a porte di salita quindi come si può vedere un'azienda di medie dimensioni impegnata su business molto diversi e con la necessità di verificare costantemente l'andamento di ciascuna commessa su ciascun business diverso perché abbiamo sviluppato un sistema di business analytics con il partner in Bayantech perché per noi è fondamentale verificare e supportare il processo decisionale interno attraverso sistemi di analisi che in modo selettivo certo e tempestivo diano la direzione generale degli strumenti per guidare l'azienda per prendere decisioni il sistema classico che avevamo in azienda era basato esclusivamente su dati a consuntivo quindi andando ad analizzare ciò che era accaduto ciò che abbiamo voluto fare è avere dei dati oggi disponibili in tempo rapido certi e selettivi appunto su ciò che accadrà su che cosa ci siamo concentrati ci siamo concentrati ad analizzare alcune dimensioni che per noi sono ovviamente dimensioni importanti per quanto riguarda la creazione del valore in azienda Goriziana è un'azienda labor intensive e non capital intensive quindi per noi la dimensione umana è una dimensione fondamentale di creazione del valore e quindi è una dimensione sulla quale abbiamo fatto degli sviluppi importanti sull'analisi del business dimensione economica assolutamente un'altra dimensione fondamentale quindi verificare la marginalità delle commesse e verificare che questa sia mantenuta nel corso dello sviluppo di commesse commesse che possono durare da alcuni mesi a più di due anni dimensione finanziaria qui c'è ben poco da dire oggi qualsiasi piano di sviluppo aziendale può avere successo solo se opportunamente sostenuto da piani finanziari sostenibili nel tempo facciamo gli esempi quindi entriamo nel concreto di quelli che sono stati poi gli sviluppi interni sulla business analytics la prima dimensione quella umana qui non si è trattato di sviluppare un sistema che andasse a verificare semplicemente se preventivato di occupare 10 ore o 100 ore di un determinato gruppo di persone che si occupano di una commessa sono state consultivate 90 o 100 ore qui la cosa importante nella visione aziendale è andare a verificare la qualità di ciò che si è svolto all'interno dell'azienda del lavoro che si è performato all'interno dell'azienda sia dal punto di vista produttivo ma anche dell'ingegneria di prodotto quindi qui andiamo ad analizzare ad esempio se le persone che hanno dedicato il loro tempo all'interno di una singola commessa o di un singolo lavoro sono esattamente quelle persone che in fase di preventivo pensavamo fossero dedicate quindi responsabile R&D piuttosto che responsabile software piuttosto che responsabile idraulico abbiano svolto il loro lavoro effettivamente nella misura in cui questo era preventivato se non è così andiamo a capirne quale è il motivo e soprattutto andiamo a sviluppare in prospettiva i loro impegni sulle future commesse faccio un esempio molto semplice qui è un esempio di un conto economico di commessa dove si vedono le ore magari non è chiarissimo nella slide che erano preventivate per le ore di ufficio tecnico di commessa diviso secondo le singole persone e i singoli ruoli e le singole capacità delle persone all'interno dell'azienda andiamo a consultivare quelle che sono state effettivamente le ore scaricate fino a quel momento nella commessa e andiamo anche a sviluppare gli impegni di queste persone nelle commesse future questo ci promette di fare una serie di analisi sulla dimensione commessa sulla dimensione persona sulla dimensione strategica ad esempio facciamo un monitoraggio costante sulle persone dell'ufficio R&D per verificare che esse dedicano tempo a commesse di ricerca e sviluppo e non a commesse di vendita proprio perché se vogliamo la strategia aziendale è proprio questa sviluppare nuovi prodotti nuove soluzioni è condizione necessaria che le persone che fanno questo all'interno dell'azienda non siano consumate da attività ordinarie o da attività legate a commesse di vendita quindi non solo un'analisi a consuntivo di ciò che è accaduto ma soprattutto un'analisi previsionale di quelle che sono le persone impegnate nelle commesse che dovranno ancora svilupparsi Conto economico di commessa per noi è importante durante lo svolgimento di una commessa comprendere sicuramente ciò che è accaduto e questo è un classico esempio di un conto economico di commessa che fa un paragone tra ciò che era preventivato e ciò che sta accadendo ad oggi supporto informativo basso ci dice semplicemente che siamo al 30% del lavoro al 40% del lavoro ma poco ci dà come informazione su ciò che dovrà ancora accadere nella commessa mi dà poche informazioni che sono utili ad assumere decisioni all'interno dell'azienda abbiamo sviluppato attraverso appunto delle soluzioni col partner Beantec la possibilità di acquisire delle informazioni presenti in azienda ad esempio informazioni che risiedono da chi in azienda gestisce il progetto project manager nel caso nostro codificate all'interno di file esterni al sistema IRP per verificare fatta la fotografia ad oggi della commessa quelle che sono le previsioni a finire della commessa che sono note al project manager verificare il forecast e se il forecast quindi la situazione che si creerà nella commessa fra un anno se non decido nulla e quella previsionale di quando acquisito l'ordine è fortemente diversa oggi posso intervenire agire sulle leve che possono essere ovviamente quelle di rivolgermi verso il cliente per chiedere un adeguamento del prezzo di commessa o del lavoro di commessa oppure ancora di più riunire attorno al tavolo il responsabile ufficio tecnico e il responsabile acquisti per cercare delle soluzioni che agevano il recupero di marginalità quindi ancora una volta come dicevamo all'inizio la base informativa su ciò che è successo ma soprattutto la base informativa su ciò che con l'informazione che oggi abbiamo succederà se non faccio nulla sono strumenti questi di supporto a chi all'interno dell'azienda decide quindi a tutto il management dell'azienda la dimensione finanziaria la dimensione finanziaria è sicuramente una dimensione critica e fondamentale all'interno dell'azienda qui abbiamo sviluppato anche qui un sistema di tesoreria che ha la doppia natura quella classica come in questo caso questo è proprio il report di tesoreria al di là dei valori che ovviamente non sono quelli reali che evidenzia le informazioni certe quindi tutte quelle informazioni che al momento della produzione del report sono disponibili nel sistema IRP ancora una volta abbiamo sviluppato una soluzione che vada a cogliere anche elementi esterni al sistema IRP che sono censiti nel sistema informativo aziendale e che mi permettono di fare uno sviluppo della tesoreria a medio termine e mi permette anche in questo caso di avere una visione una visibilità sul futuro basandomi sicuramente su elementi certi ma anche su elementi previsionali anche in questo caso è fondamentale riuscire ad avere una informazione tempestiva un'informazione certa come in questo caso un'informazione che mi permetta di traguardare ciò che accadrà con le informazioni note ad oggi quindi quello che abbiamo cercato di fare e ci siamo riusciti il compito nostro ovviamente è mantenerlo all'interno dell'azienda sono sistemi che vanno ad analizzare le tre dimensioni critiche quindi quella umana quella economica di commessa e quella finanziaria tutte e tre assieme fornendo degli strumenti che diano un'informazione certa rapida tempestiva a chi all'interno dell'azienda deve assumere costantemente decisioni che hanno ovviamente un impatto sullo sviluppo dell'azienda stessa da questo punto di vista ciò che porto alla fine dell'incontro della brevissima speech per permettere poi anche alcune domande se ci sono e sono ben accette è proprio il fatto che Goriziane ha deciso e ha scelto strategicamente di guidare il futuro ma e non subirlo questa è una frase di Gary Hamel ma che noi abbiamo come must interno all'azienda quindi la necessità di guidare con gli occhi aperti di avere informazioni sul futuro quanto più possibile codificate e inserite nei sistemi aziendali perché ogni giorno prendiamo decisioni su ciò che accade ed è fondamentale che esse siano prese avendo un supporto informativo il migliore il più veloce il più tempestivo il più certo possibile quindi ciò che abbiamo fatto è proprio questo su questo vi chiedo assolutamente di fare tutte le domande che possono essere utili perché ci permette da un lato di condividere l'esperienza e dall'altro di migliorare i sistemi intanto vi ringrazio come diceva chiaramente se ci sono se ci sono domande in questa in questa sede noi chiaramente come Beantec abbiamo la postazione proprio lì accanto quindi per quanto riguarda anche in particolare tutti gli aspetti di BN Analytics vi attendiamo volentieri per approfondire per farvi vedere molti altri esempi che appunto abbiamo abbiamo in postazione proprio perché come si diceva prima il sistema questo è uno dei casi particolari appunto riferito in particolare all'ottica di performance quindi di CPM però chiaramente come avete visto nella breve introduzione le attività le aree di business coperte sono molte quindi vi inviterei appunto a effettuare delle domande o qualora venirci a trovare proprio qui accanto tutto chiaro tutto a posto quindi vi vi ringraziamo ci vediamo sicuramente allo stand molto molto volentieri per per approfondire proprio a a 10 metri qua vicino grazie mille